Già un po' di ragazzi per i cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Juventus-Milan Allora, contro il Malmo, contro il Malmo sinceramente ho rivisto qualcosa in più Contro il Malmo sinceramente qualcosa in più, un pizzico di forza in più c'è stata sicuramente Perché Dybal è tornato, Guardaro è tornato, Morata è stata in forma Quindi qualcosa in più contro il Malmo sicuramente c'è stato È vero che il Malmo e il Milan sono due cose diverse Uno è più debole e uno è più forte, ma secondo me se giochiamo in quel modo Pure contro il Milan, secondo me possiamo portare a casa sicuramente questi tre punti sacrosanti Regà, questi tre punti sacrosanti, anche se come ho detto il Milan e il Malmo sono due cose diverse Il Milan e il Malmo ovviamente sono due cose diverse, uno è più forte e uno è più debole Ovviamente ma stiamo lì, secondo me possiamo farcela, basta mettercela tutta Ibra secondo me sarà fuori, quindi questo è un vantaggio nostro Anche se il Milan quando vuole sta abbattendo addirittura il Liverpool 2-1 ad Anfield Quindi qualcosa in più dobbiamo farlo perché se scherziamo col Milan ovviamente ci castiga Chi si ricorda il 3-0 a casa nostra veramente Io veramente, 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 veramente mi vergogno A guardare quella partita mi vergogno, sinceramente mi vergogno Comunque, io penso che finisca 2-1 Juve Penso che sia in Dybala, Morata e poi Leao per il Milan Comunque, se vi faccio nei commenti le vostre predizioni Questa partita è assolutamente da vincere Se vogliamo almeno pensare allo scudetto, anche se il campionato è abbastanza lungo Possiamo rimediare Comunque, ciao, posto di sempre Questa partita è assolutamente da vincere Dimentichiamo l'Empoli e il Napoli perché veramente lì c'è da molto dimenticare Ci la possiamo fare, niente comunque, ciao, posto di sempre